Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ci troviamo a Milano, più precisamente in zona Porta Venezia. Vi anticipo che il caso di oggi è avvolto nella nebbia di un giallo fittissimo, dove ogni pista lampeggiante sembra poi condurre a un vicolo cieco. È venerdì 19 luglio 2013 e la domestica della signora Nicoletta Figgini, come ogni giorno, arriva al lavoro in orario. Sono le nove del mattino. La domestica utilizza le sue chiavi per aprire la porta di casa, ma si rende conto che è stata chiusa senza dare mandate alla serratura. Una volta all'interno dell'appartamento, lo ritrova totalmente a su quadro. Nicoletta, la padrona di casa di 55 anni, è nel salotto, ma senza vita. La domestica si affretta a scendere in portineria per chiedere aiuto e il portiere allerta al 113. La polizia sopraggiunge a via Bernardino Ramazzini, al civico numero 4. Marco Denunzio, della squadra mobile di Milano accompagnato da diversi agenti, entra nella palazzina. I poliziotti notano immediatamente l'appartamento con la porta aperta e vi entrano. La luce del corridoio è accesa e la casa è in preda al caos, con numerosi oggetti sparpagliati a terra. Il poliziotto Alessandro Vitale, con Marco Denunzio al seguito, si addentra nelle varie stanze. Quattro vani con cucina e servizi. Agli agenti risulta chiaro che la residenza appartiene a una persona benestante, ma Marco Denunzio nota pure che in casa c'è una cappa di umidità. A Milano è una giornata molto calda, tuttavia in casa le finestre sono chiuse, con le serrande abbassate. Il poliziotto entra in soggiorno e, volgendo lo sguardo al pavimento, si trova davanti una scena raccapricciante. Una donna è riversa a terra, a faccia in giù, a gambe e piedi legati mediante una cinghia di pelle nera con borchie metalliche, una di quelle adoperate per le pratiche intime estreme. La vittima ha addosso una camicia da notte bianca che la copre parzialmente fino all'altezza dei glutei. Un lenzuolo le avvolge la bocca, passa per i polsi e poi prosegue lungo le caviglie. La bocca e il naso sono coperti dal nastro adesivo. La signora Figgini è deceduta per asfissia. Nella sua camera sul letto vengono rinvenuti il nastro isolante e un coltellino utilizzato per tagliarlo. La vittima, ossia Nicoletta Figgini, era una donna di 55 anni che negli ultimi sette aveva perso entrambi i genitori. Era anche vedova da tempo e non aveva avuto figli. Capire chi fosse e che vita conducesse Nicoletta è il primo grande ostacolo dell'indagine che i poliziotti si trovano ad affrontare. La vittima non aveva parenti stretti, né fratelli o sorelle, né un partner o un compagno abituale. Gli investigatori, esaminando la scena del crimine, prendono in considerazione l'ipotesi di una rappina finita male. Ma c'è qualcosa di anomalo che non li convince. Alcuni oggetti preziosi sono stati lasciati all'interno dell'abitazione, come degli orologi, mentre altri gioielli di scarso valore sono stati sottratti, ma vengono ritrovati a poche strade di distanza, in via Stoppani. Inoltre sul pavimento del salotto sono sparsi diversi documenti, tutti tirati fuori dai cassetti. Si direbbe che l'assassino stesse cercando qualcosa in particolare. I due telefoni cellulari della vittima vengono trovati all'interno del water, ormai inutilizzabili. E anche questo elemento fa supporre che l'omicida avesse qualcosa da nascondere. Come già detto, tutte le finestre della casa sono chiuse, con le tapparelli abbassate e prive di segni di effrazione. Quindi il colpevole aveva avuto accesso all'interno dalla porta, o l'aveva trovata aperta, oppure era stata Nicoletta a farlo entrare. Nell'appartamento, ricollegandoci alla cinghia, viene trovata anche una busta piena di oggetti, solitamente usati per consumare pratiche intime estreme. Le indagini fin dall'inizio si rivelano difficili, ma c'è una pista che può essere battuta proprio in virtù degli oggetti trovati sulla scena del crimine. Questi possono consentire di inquadrare meglio la complessa personalità di Nicoletta. Ben presto emerge che la donna, come presunto, apprezzava quelle pratiche intime, anzi, era lei ad assumere il ruolo di mistress, cioè quello della dominatrice. Tuttavia, quando viene trovata senza vita, il suo corpo è in una posizione tipica di chi subisce l'atto, a terra, a faccia in giù, e legata. Attraverso le analisi dei contatti telefonici della donna, la polizia riesce a individuare un uomo. Un suo amante di vecchia data. I due si erano conosciuti nel 1999 e avevano avviato una relazione che era proseguita dal 2000 al 2006. Era proprio lui, per sua stessa ammissione, ad averla iniziata questa tipologia di pratiche intime. Il rinvenimento del nastro adesivo e del coltello sul letto fa supporre alla polizia che l'aggressione della donna fosse cominciata in camera da letto per poi proseguire in salotto. Durante la perquisizione nel cassetto di un mobile presente in camera da letto viene rinvenuto un beauty case da donna, all'interno del quale gli inquirenti trovano sette involucri, tre boccette e due siringhe contenenti una sostanza di colore marrone. Una sostanza stupefacente. Come si scopre, Nicoletta la consumava abitualmente. Sempre attraverso l'analisi dei tabulati telefonici si rintraccia un uomo che ammette di aver consumato questa sostanza con Nicoletta in diverse occasioni, proprio a casa di lei. Nicoletta, però consapevole dei pericoli della sua dipendenza, si era rivolta a un centro per curarla. Gli inquirenti infatti interrogano gli operatori e scoprono che la donna aveva sviluppato questa dipendenza dopo la morte del marito, a seguito della depressione conseguente al lutto. Adesso era in terapia. Psicologi e psichiatri stavano tentando di farla riemergere da questo abisso. Che Nicoletta fosse una tossicodipendente per molti è una sorpresa. È come se lei avesse vissuto due vite parallele. C'è chi ne conosceva soltanto una e chi sapeva di entrambe. Molti la descrivono come una donna solare, affabile, simpatica. Non riescono a credere che una come lei potesse assumere sostanze stupefacenti. Al limite l'avevano vista consumare qualche bicchiere di vino. Maurizio Ragneri, un suo amico, ricorda che adorava il cioccolato. Se ne riforniva in grandi quantità proprio nella sua bottega. Ma per capire meglio questa storia dobbiamo tornare indietro e calarci nella Milano d'inizio millennio. Una città che attira investimenti esteri, cresce il doppio della media nazionale e incentiva lo sviluppo di un contesto sociale che richiede delle performance sempre molto elevate. Ed è proprio questo costante bisogno di approvazione sociale porta i milanesi a condurre delle doppie, a volte triple vite, che si snodano in ambienti molto diversi tra loro e Nicoletta si trova nella confluenza tra tutti. Il caso quindi diventa la chiave d'accesso per esplorare una città sommersa, una Milano che non si rivela in superficie, alla luce del sole. La polizia prosegue le indagini e verifica se all'interno dello stabile ci sia qualcuno che possa aver visto qualcosa di rilevante. La donna che abita nell'appartamento sottostante a quello di Nicoletta riferisce alla polizia che sul suo terrazzo arriva una corda che penzola dal tetto. Al piano superiore, in corrispondenza, c'è la vetrata della veranda della cucina di Nicoletta e quella veranda è stata forzata. La polizia quindi comprende che la prima ipotesi formulata è ora da scartare. Chi era entrato nell'appartamento di Nicoletta non l'aveva affatto dalla porta, ma calandosi dal tetto di notte. I detective però continuano a mantenere le due piste iniziali, la rapina finita male oppure l'omicidio maturato in ambito privato. Ci sono a riguardo dei punti da chiarire. Nell'appartamento l'intruso cercava qualcosa in particolare, come detto. Inoltre qualcuno che ha dimistichezza con la struttura del condominio sapeva come immettersi all'interno, dove posizionarsi, da che punto calare la corda e fino a che lunghezza. Inoltre anche gli strumenti utilizzati per legare Nicoletta fa ipotizzare alla polizia che l'omicida sapesse almeno qualcosa sulle sue preferenze intime. Si crede anche che probabilmente Nicoletta non sia morta per mano di un assassino soltanto. Forse più intrusi sono entrati nell'appartamento della vittima. Potrebbero essere servite almeno due persone per immobilizzare e legare la donna in camera da letto e poi trasportarla in soggiorno. Nicoletta, come detto, era una donna sola, con pochi amici, pochi parenti, quindi gli investigatori non devono soffermarsi sulle persone intorno a lei, ma sugli oggetti che hanno una loro voce e devono riuscire a percepire quello da cui proviene la verità. La corda ha di certo qualcosa da raccontare, così gli investigatori si rivolgono a qualcuno che delle corde ha fatto la propria vita e la propria passione. La guida alpina, Pino Gidaro. Gli inquirenti si presentano nel suo negozio e gli formulano delle domande circa l'utilizzo di materiali alpinistici. Dalle fotografie emerge che la corda utilizzata non è un oggetto d'alpinismo, sembra quasi impalmata a mano ed è di dubbia provenienza. Non si tratta di un prodotto italiano, la manifattura non rientra nella nostra cultura. Queste informazioni suggeriscono agli inquirenti che la corda appartiene indubbiamente a colui che si è introdotto in casa di Nicoletta per ucciderla, probabilmente un cittadino straniero. Oltre alla corda, anche i moschettoni utilizzati dall'assassino per legare la vittima hanno qualcosa da rivelare. Prodotti all'inizio degli anni 90, quei moschettoni, all'epoca del delitto, non erano più in commercio già da vent'anni. Tuttavia, persino negli anni 90 non era facile reperirli perché venivano prodotti in galles da un'azienda specializzata di nicchia. Erano merce rare e preziosa, dunque costosa, di un brand particolare che opera nel contesto delle attrezzature. Riassumendo, quei moschettoni erano stati acquistati prima degli anni 90 o erano stati recuperati da qualcuno del Regno Unito oppure appartenevano proprio a un cittadino britannico. La scelta dei moschettoni, però, indica anche che l'assassino non ha grande competenza nelle pratiche intime estreme proprio perché utilizza quelle industriali. Di solito, durante le pratiche intime estreme non viene usato questo tipo di moschettone perché ha una tenuta minore di quello da scalata che si tende a preferire. I moschettoni usati a casa di Nicoletta probabilmente erano stati reperiti all'occorrenza. Sono molto vecchi e vengono abbandonati lì come se non ci fosse alcun interesse a custodirli. Al contrario, chiusi i moschettoni per attuare le pratiche intime estreme di solito tiene molto alla sua attrezzatura e non l'abbandonerebbe mai. Alla guida alpina viene anche chiesto di abbozzare una specie di identikit dell'assassino o degli assassini valutando gli elementi che conosce per mestiere quindi sulla base della propria competenza. Pino Gidaro descrive che ha posizionato la corda come una persona abile con le mani intelligente audace determinata non di grande statura sotto i 65 kg. Potrebbe essere uno straniero sia per la provenienza dei moschettoni che per la tipologia di corda adoperata. Inoltre la polizia arriva alla conclusione che l'omicida non è un esperto delle pratiche intime estreme anche in base al modo in cui ha fatto i nodi e ha posizionato la corda. Il suo uso di questi oggetti sembra indicare che non abbia di mistichezza anche se qualcosa sa. La scelta di imbavagliare la vittima con le lenzuola e il modo in cui le ha immobilizzato le mani dietro la schiena lasciano presumere che l'assassino abbia sviluppato un po' di immaginario a riguardo. Magari aveva fatto delle sessioni con Nicoletta con lo scopo di rapinarla quando credeva che non fosse in casa. Questa però è solo una delle tante ipotesi. Arrivati a questo punto delle indagini la confusione invece di dissolversi aumenta. Le dinamiche da ricostruire sono complicate un aiuto però arriva dai colleghi di Nicoletta che era socia nella gestione di un negozio di telefonia vicino al suo appartamento in piazza 8 novembre. Viene interrogato il suo socio che abita nell'Interland milanese. L'uomo descrive agli inquirenti un rapporto meramente professionale con Nicoletta aggiunge che non c'erano mai stati screzzi. Al lavoro insomma il clima era sereno anche se lei aveva deciso di aprire un altro negozio di telefonia in centro e voleva chiudere quello che gestivano insieme. I poliziotti però nutrono qualche sospetto pensano che stia nascondendo qualcosa circostanza che viene confermata dalle tante persone che stanno interrogando. C'è un uomo di cui però non conosciamo né il nome né il volto che aveva conosciuto Nicoletta proprio grazie al suo socio. I due erano diventati amici anche per affinità lavorative infatti lui lavora per una società che vende telefoni e accessori. Nicoletta quindi gli aveva spiegato che lei e il suo socio avrebbero dovuto alternarsi ma in verità in negozio c'era quasi sempre lei perché lui era impegnato ad allenare una squadra di pallanuoto. Nicoletta si sfogava con l'amico lamentando che gli accordi presi con il socio non venivano da lui rispettati. In un'occasione era particolarmente arrabbiata per questioni relative ai pagamenti da sostenere dunque i rapporti tra Nicoletta e il socio non erano sereni ma tesi. Tuttavia gli inquirenti hanno l'impressione che le questioni tra i due non avessero soltanto una natura professionale o economica ma c'era dell'altro. Una storia? Vi chiederete. Ebbene sì gli inquirenti lo scoprono leggendo i documenti dei professionisti che avevano in cura Nicoletta presso il centro. Lei era profondamente innamorata di quest'uomo in realtà avevano anche avuto una relazione sentimentale che però non era durata tanto perché lui era sposato e aveva una moglie molto gelosa. Quando gli inquirenti lo interrogano di nuovo e lo mettono alle strette l'uomo non conferma subito il rapporto. Occorreranno molti incontri e diverse verbalizzazioni. Alla fine però ammette di aver avuto una relazione con Nicoletta e che il sentimento per un certo periodo era stato anche corrisposto. chiaramente lui conosceva bene anche la casa di Nicoletta quindi riassumendo non andava d'accordo con la vittima conosceva la sua casa e ha mentito spudoratamente agli inquirenti più volte. È chiaro che quest'uomo diventa il principale sospettato e le indagini svelano che aveva anche altro da nascondere. Nicoletta infatti aveva raccontato al suo amico che il socio allenatore di una squadra di pallanuoto femminile sembrava più interessato alle ragazze che allo sport. Aveva iniziato a portare con lui nel negozio di telefonia una ragazzina di 13 anni che presentava come la fidanzatina del figlio. Questo infastidiva Nicoletta che nutriva dei sospetti. Forse i due si frequentavano. Quelli di Nicoletta erano sospetti più che giustificati. L'uomo aveva conosciuto la ragazzina nel 2012 e faceva parte della cerchia di amicizia del figlio e dopo un po' aveva smesso di tenere segreta la natura della relazione con lei. Anzi cosa peggiore se ne vantava con Nicoletta gli aveva confessato di aver regalato un cellulare alla 13enne con cui si scambiavano messaggi sconvenienti messaggi che un adulto e una ragazzina non dovrebbero scambiarsi o i brividi credetemi questo soggetto si vantava di essere un peidano. Nel 2013 l'anno in cui viene uccisa Nicoletta aveva confidato i suoi terapisti di avere una relazione con un uomo un pervertito ma non se la sentiva di denunciarlo si limitava ad allontanarsi da lui e chiudere il negozio di telefonia per trasferirsi altrove con un nuovo socio a questo punto gli inquirenti devono capire se lui si sentisse o meno minacciato da Nicoletta conservano ancora i due telefoni cellulari della vittima che come detto erano stati gettati nel water dunque resi inutilizzabili forse l'intervento di un esperto potrebbe servire a recuperare i segreti in loro contenuti per quanto riguarda il primo telefono purtroppo non risulta possibile effettuare la lettura della memoria danneggiata dai liquidi in cui era immerso per il secondo telefono un iphone la lettura è invece possibile e i contenuti vengono messi a disposizione della polizia giudiziaria tuttavia l'iphone è bloccato e il pin non è noto essendo di proprietà della vittima in questo momento storico non era ancora possibile effettuare delle operazioni di sblocco degli apparati iphone ma viene fissato un appuntamento con la apple per il 24 febbraio 2014 nella silicon valley gli investigatori vengono ricevuti da un team tecnico legale di apple che applica una procedura riservata interna permettendo l'estrazione dei contenuti nella memoria del dispositivo bypassando dunque il blocco l'utilizzo del pin però era limitato alle applicazioni interne già installate sul dispositivo non esteso ad applicazioni di terze parti di conseguenza ad esempio whatsapp non può essere analizzato ma da alcuni sms scambiati tra nicoletta e un suo conoscente amico emerge tutta la rabbia nei confronti dell'ormai ex socio risaltano poi anche degli sms diretti tra lui e nicoletta nel primo caso nicoletta proprio riferendosi al socio scrive all'amico adesso lo strozzo scusa lo sfogo ma dovremmo pensare ad un modo per farlo fuori non nel senso letterale del termine ma commercialmente parlando e ancora caro buonanotte zero notizie zero risposte come al solito sono stanca credimi molto stanca stanca che rubi il mio tempo sono molto amareggiata ma quello che vedo è una totale indifferenza verso di me esistono solo lui e le sue stronzate il resto è zero poi c'è lo scambio diretto tra nicoletta e il socio non sei andato in banca né hai cercato di sistemare tutto quanto vedi di darti una mossa perché non hai 13 anni e non me ne frega niente delle tue pulsioni da imbecille hai la tua età e devi comportarti come conviene finisci male ma se serve mi ci metto anche io credo di essere stata chiara piantala e agisci da adulto questi messaggi per gli inquirenti parliamoci chiaro possono costituire un movente più che valido lui aveva motivo di temere nicoletta a questo punto gli inquirenti devono riuscire a collocare il socio sulla scena del crimine al presunto orario dell'omicidio che si colloca tra l'una e le quattro di notte ha per caso un alibi beh il suo non è un alibi di ferro diciamo così il suo telefono durante la notte risulta spento le ultime celle agganciate sono quelle della sua abitazione gli inquirenti quindi non possono sapere se durante la notte si fosse allontanato i familiari sostengono che era rientrato la sera e che la mattina era in casa a questo punto agli investigatori rimangono due strade da percorrere quella del dna e quella delle intercettazioni iniziano subito a intercettarlo ma non emerge nulla di significativo in relazione all'omicidio quella che affiore piuttosto la vicenda della pedra gli scambi di messaggi tra il socio e la tredicenne sono continui quindi si raccoglie una serie di prove da sottoporre all'attenzione dell'autorità giudiziaria che dispone l'arresto dell'uomo il socio di nicoletta quindi si finisce in galera ma non per l'omicidio quanto alla strada del dna non sono presenti tracce del socio sulla scena del crimine resta il fatto che non si può escludere che l'uomo sia il mandante del delitto anche se per ora nulla lo prova sulla scena del crimine la polizia scientifica isola 5 tracce di dna appartenenti a soggetti diversi da nicoletta e questo per gli investigatori è un elemento importante la prima traccia di dna viene localizzata sotto l'unghia della mano destra della vittima questo dna insieme a quello della vittima è inoltre presente su un fazzoletto rinvenuto sulla scena del crimine che mostra delle tracce di sangue un secondo dna maschine viene rilevato da un prelievo superficiale effettuato sulla cute del braccio destro della vittima un terzo campione proviene da un manico di un coltello repertato nell'abitazione un quarto si evidenzia invece da un cinturino in pelle nera con fibra metallica presente sul polso della donna l'ultimo infine viene isolato dalla corda che dall'antenna posta sul tetto era stata allungata per raggiungere l'abitazione attraverso la veranda della cucina cinque tracce cinque ignoti ma uno di loro resta ignoto per poco gli inquirenti procedono comparando i profili genetici delle persone già interrogate che appartenevano alla cerchia di amicizie di Nicoletta con quelli trovati sulla scena del crimine la prima corrispondenza la individuano con l'ex amante di Nicoletta l'uomo che l'aveva iniziata alle pratiche intime estreme ma la polizia non credesse a lui l'assassino il reperto biologico era stato trovato sulla fibbia utilizzata per costringere Nicoletta l'uomo però sin da subito aveva dichiarato di aver avuto i rapporti con la donna e lui aveva un ruolo passivo dunque era normale rinvenire anche le sue tracce all'interno della fibbia in questione inoltre ha un alibi robusto studiando i suoi tabulati telefonici emerge che non era sulla scena del crimine la notte del delitto inoltre ha un alibi robusto studiando i suoi tabulati telefonici emerge che non era sulla scena del crimine la notte del delitto era impegnato a gestire una sua grave malattia restano quindi quattro profili il cromosoma y di ignoto 1 viene individuato due volte in due soggetti provenienti rispettivamente dalla polonia e dalla repubblica cieca il dna corrisponde con quello trovato sotto l'unghia della vittima lo stesso cromosoma che si trova nel fazzoletto intriso di sangue con le tracce biologiche di Nicoletta è possibile che i due abbiano avuto una collutazione quindi gli inquirenti sono ragionevolmente certi che è proprio quello il profilo biologico dell'assassino ignoto 1 diventa la nuova pista seguita dagli investigatori il campione verosimilmente può essere ricondotto a un'origine europea e probabilmente in Europa orientale le indagini genetiche sono importanti ma nel caso specifico anche tanto vaghe dicono tutto e niente quindi bisogna affiancare a questo tipo di indagine anche una tradizionale la polizia ritorna sulle piste già percorse cercando conferme grazie alle informazioni fornite dal genetista a questo punto si scarta la pista dell'omicidio privato e si rafforza quella della rapina si scopre che Nicoletta aveva una colf ucraina a cui era molto affezionata lei poteva conoscere i suoi segreti quindi la donna si era allontanata dall'Italia tre settimane prima dell'omicidio a marzo del 2013 aveva perso il marito probabilmente era questo il motivo per cui aveva abbandonato il territorio dello Stato ma è singolare che l'avesse fatto soltanto tre settimane prima del delitto avvenuto a luglio dei sospetti gli inquirenti li nutrono la colf potrebbe essere stata una fonte di informazioni per altre persone era sicuramente con lei che conosceva meglio i segreti di Nicoletta e poi c'è il riscontro rispetto a quello che aveva detto il genetista forense è una cittadina nativa di Leopoli una città ucraina al confine con la Polonia come detto il profilo genetico di ignoto 1 era stato isolato proprio in Polonia gli inquirenti riescono a rintracciare la donna ma con estrema difficoltà lei è in Ucraina e si rifiuta di tornare in Italia quindi è la polizia che va da lei con in mano il mandato di un magistrato la polizia riesce a interrogarla e la donna fornisce un'informazione importante gli inquirenti infatti scoprono che c'è un doppio fondo all'interno di un mobile del salotto di Nicoletta nel doppio fondo sono nascosti gioielli più preziosi che la donna custodiva a questo punto la polizia torna nell'appartamento della vittima alla ricerca del nascondiglio e lo individua ma i gioielli sono tutti presenti nessuno ha rubato qualcosa questo vuol dire che la colfo non aveva davvero rivelato il nascondiglio a un ipotetico ladro o che non lo aveva fatto con precisione visto che la casa era comunque in subbuglio come se l'intruso stesse cercando qualcosa tutti quei documenti sparsi in giro potevano essere il risultato di un'informazione inesatta che la colfa aveva dato a qualcun altro peraltro nelle ipotesi degli inquirenti la donna poteva anche averlo fatto involontariamente in buona fede raccontando ai familiari quello che accadeva in casa di Nicoletta ma qualche connazionale poteva aver carpito e usato le informazioni per commettere la rapina intanto l'indagine della genetica forense continua dato che il gnoto 1 potrebbe essere proprio di quella provenienza geografica gli inquirenti provano a restringere il campo utilizzando le celle telefoniche ossia verificano quale utenze appartenenti ai cittadini stranieri dell'est Europa hanno eventualmente agganciato celle compatibili con l'abitazione di Nicoletta in via Bernardino Ramazziene in un orario compatibile con l'omicidio dall'analisi del traffico delle celle si evidenzia che tra le 20 della sera del 18 luglio e le 8 della mattina del 19 più di 16.000 utenze telefoniche hanno impegnato le celle di via Ramazzini delle vie limitrofe e della possibile via di fuga come detto gli inquirenti pongono l'attenzione sui soggetti maschi provenienti dall'est Europa proprio perché in sede di primo sopralluogo dalle indagini biologiche e quindi genetico forensi due DNA rinvenuti sulla scena del crimine risultavano appartenere a soggetti maschi di origine caucasica e in particolare dell'est Europa le celle telefoniche che gestiscono il traffico in quella zona hanno registrato 186 utenze intestate a soggetti maschi di interesse per le indagini il passaggio successivo è quello di verificare tutti i precedenti penali attraverso le banche dati delle forze di polizia è stato quindi possibile rintracciare le persone con precedenti penali e sottoporle al test del DNA per effettuare un confronto con quello rinvenuto sulla scena del crimine questo confronto dà esito negativo tranne per un soggetto che si è rifiutato di sottoporsi al test come previsto dalla legge viene chiesta l'autorizzazione all'autorità giudiziaria per poter effettuare un prelievo coattivo dei campioni biologici ma l'autorizzazione viene negata ciò vuol dire che ancora oggi a ben dieci anni dall'omicidio questo è l'unico profilo che gli inquirenti non sono riusciti a comparare dunque ricapitolando ogni pista era rimasta aperta ma tutte hanno fatto un buco nell'acqua partendo da quella dell'ex socio che oggi sconta la sua pena in carcere condannato per un altro reato ossia per atti intimi con una minore poi c'era stata la pista della colf che però non sembra abbia fornito ai rapinatori l'unica informazione di rilievo ossia quella utile per scovare il nascondiglio dove la vittima teneva i gioielli di maggior valore ancora c'era stata la pista dell'ex amante scartata subito perché la presenza del suo DNA sugli oggetti usati per consumare atti intimi estremi era assolutamente compatibile ma non probante e aveva un alibi inespugnabile quindi si rimane con un pugno di polvere in mano anche se grazie all'analisi del profilo genetico di ignoto 1 gli inquirenti sanno con certezza che è lui l'assassino ma non lo hanno identificato quel DNA come detto era stato trovato sotto le unghie della vittima che deve aver fatto di tutto per salvarsi per evitare di morire vi ripeto da allora sono passati dieci anni e in tutto questo tempo le tecnologie hanno fatto passi da gigante l'analisi dell'iPhone al tempo era stata parziale ma oggi sarebbe possibile indagare molto di più su quel telefono si potrebbe operare una revisione dei reperti dato che oggi i progressi tecnologici nella capacità di interpretazione statistica dei risultati del DNA consentono potenzialmente di individuare ulteriori profili genetici dai reperti già precedentemente analizzati quindi ecco il triste destino di un caso irrisolto cosa si è successo davvero alla povera Nicoletta non possiamo saperlo e io ho scelto di fare questo video perché trovo interessante e giusto ripercorrere la sua storia una riapertura delle indagini potrebbe aiutare a venirne finalmente a capo oggi si potrebbero scoprire degli elementi in più capaci di portare alla risoluzione del caso Nicoletta avrebbe così la giustizia che merita anche se dopo tanto tempo io non abbandono mai la speranza che i casi rimasti irrisolti possano prima o poi essere riapprofonditi e conclusi quasi sempre è impossibile almeno a quanto ho potuto vedere a causa della dispersione dei reperti ma in situazioni come queste dove i reperti ci sono ancora credo sia giusto ripartire con le indagini con questo video ricordiamo Nicoletta dalla sua vita brutalmente stroncata sono emersi misteri e ombre anche se per coloro che la conoscevano rimarrà l'immagine di una signora distinta rispettabile e simpatica detto questo ho finito di parlare in questo video fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso l'ho trovato molto interessante anche se è risolto ecco perché ho deciso di portarvelo e io spero sempre che questi casi vengano riaperti se ci sono ancora i reperti si può continuare a indagare si può ancora approfondire quindi credo sia giusto provare a riaprirli e quindi a portarle una risoluzione fatemi sapere quindi voi che cosa ne pensate come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti nel frattempo io vi mando un bacione ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non faciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti